Ciao, oggi video sul metodo di studio Errori da non fare quando si studia Questo video si aggiunge agli altri video sul metodo di studio che vi lascerò tutti nell'info box così se vi interessa non potete cliccare e andare a guardarli Primo errore da non fare quando si studia è tenere il cellulare sott'occhio È sufficiente che voi teniate il cellulare sulla scrivania per avere già sbagliato Infatti il cellulare, anche se lo mettete perché io all'inizio lo mettevo così, girato a faccia in giù ma anche se lo tenete girato a faccia in giù però è in vista, quindi voi potete vederlo la vostra mente è sempre distratta dal fatto di pensare chissà se qualcuno mi ha scritto oddio, vediamo se mi ha scritto no, mi devo trattenere per non guardare che qualcuno mi ha scritto non lo devo guardare perché devo andare avanti a studiare e siamo sempre distratti quindi è fondamentale non avere il cellulare a portata di mano per farvi capire io lo mettevo totalmente silenzioso e lo nascondevo in un'altra stanza la mia amica invece lo consegnava la mattina a sua madre e le diceva non darvelo finché non ho finito di studiare perché in questo modo tu lo togli dalla tua mente e all'inizio dirai cavolo il cellulare dopo te ne dimenticherai totalmente e potrai studiare in tranquillità quindi primo errore da non fare è non tenere il cellulare sott'occhio non studiacchiare qui e là cioè se io devo studiare sia che sia per una verifica sia che sia per un esame all'università io devo darmi il mio tempo se tu devi fare l'esame non puoi studiacchiare così boh due ore, mezz'ora, forse domani, forse però, non lo so voi dovete avere un piano di studi ben preciso e da rispettare per questo ho fatto infatti un video apposta e li farò comunque anche altri perdere troppo tempo a fare riassunti e schemi infatti se i riassunti e schemi possono essere molto utili per memorizzare, focalizzare i concetti sono però un disastro quando ci occupano davvero tantissimo tempo ci fanno perdere tutto quel tempo che potremmo utilizzare a studiare confrontarci continuamente con amiche, compagni di scuola, di università questo se da un lato può essere molto utile per migliorarci dall'altro è deleterio se continuiamo a avere un confronto perché allora innanzitutto ognuno studia a modo suo seconda cosa io magari sono un po' più indietro tu un po' più avanti questa cosa ti mette in uno stato di confusione totale cioè per farvi capire io all'inizio lo facevo e io ogni volta tipo tornavo mega depressa perché dicevo no cavolo io non so niente non sono pronta, non lo so tutti sanno tutto, tutti sanno tutto cioè è secondo me pessimo voi dovete studiare, fare il meglio e prepararvi poi ok di tanto in tanto confrontarsi è molto utile magari certi argomenti non sono chiari o certe cose le studiate meglio lei o meglio tu vi fate le domande a vicenda ok questo va bene ma quello che non va bene è continuare a confrontarsi dall'inizio alla fine perché creerà soltanto una confusione immensa altro consiglio che vi devo assolutamente dare ma su cui voglio fare dei video apposta è non abbatterci se noi ci mettiamo a studiare la mattina iniziamo no non ce la posso fare non ce la posso fare no no cioè se tu ti abbatti entri in una spirale negativa che ti porta sempre al peggio quindi ok avremo momenti di sconforto ma non dobbiamo farci portare nel turbine di questa negatività cioè se devo fare un esame prendo mi metto lo faccio se poi va male ma cosa sarà mai cioè non succede niente lo rifai però non dobbiamo passare la giornata a battute con il pensiero costante oh mio dio non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio no non dormire per studiare perché tipo certi tipo ok non devo studiare tutti gli ore devo studiare tutta la mente no questo è sbagliatissimo perché se voi non dormite il vostro corpo e la vostra mente non hanno tempo di rigenerarsi e di riposare quindi creerete solo un danno al vostro studio perché poi vi troverete a studiare in modo del tutto tipo distruttivo perché non avete il cervello attivo il vostro corpo è stanco ma avete ancora mille cose da studiare no dormite le vostre ore e studiate le vostre ore ma assolutamente non state svegli ad orare i folli per dover studiare perdere tempo andando a lezioni o a scuola e non ascoltare cioè se voi andate a lezioni a scuola utilizzate quel tempo per ascoltare perché se voi andate e non ascoltate niente avete perso tempo cioè piuttosto state a casa ok non lo posso dire a scuola perché a scuola siete obbligate ma all'università sì voi dovete ascoltare perché se voi ascoltate cioè non dico proprio tutta la lezione però cioè è utile ascoltare perché vi dà già un'infarinatura della materia per chi è molto verificace addirittura già fa metà dello studio non ero io quella comunque dovevo studiare però se tu ascolti già ti dà appunto conoscenza della materia o dell'esame che devi fare quindi se andate ascoltate perché altrimenti è tempo perso l'ultimo consiglio che voglio darvi ed è per me importantissimo è non studiare solo sugli schemi non studiate solo su schemi riassunti perché è un riassunto è uno schema e è riassunto proprio perché c'è solo una parte quindi ci sono le cose fondamentali che sono molto importanti per magari ripetere per capire i concetti principali su cui poi fare il tuo discorso o i tuoi esercizi o comunque la tua verifica o il tuo esame ma non usate solo gli schemi riassunti perché quelli sono solo una parte dovete invece tenere il libro e da parte gli schemi riassunti questo sì ok questi sono tutti un po' i miei non consigli su come non studiare o meglio non fare errori con il tuo metodo di studio e spero vi sia piaciuto questo video e grazie mille per aver visto questo video e a chi va ci vediamo al prossimo video ciao